In aumento i casi di legionella è fondamentale la prevenzione olimpia-mignosi. Sono batteri presenti negli ambienti d'acqua naturale e artificiali ma anche negli impianti idrici degli edifici che possono fare da amplificatori e disseminatori delle legionelle. Ci si ammala respirando aerosol di quell'acqua infetta, un grave rischio per la salute umana. Nei soggetti fragili e anziani quei batteri possono diventare letali e portare persino al decesso. Nonostante l'aduzione di misure preventive, il numero dei casi nel nostro paese è in aumento, più 14% rispetto agli anni precedenti. Una nuova ricerca presentata nell'ambito del convegno Acque valuta le migliori pratiche sanitarie contro la legionellosi. Noi abbiamo preso in considerazione diverse politiche sanitarie per tutelare la salute delle persone negli edifici. Abbiamo confrontato diversi sistemi, diverse strategie e ne abbiamo identificato una che è estremamente efficace e costa molto di meno. A questo convegno Acque presentiamo i risultati in un libro bianco che sarà poi pubblicato e diffuso. Lo studio va oltre attraverso la strada che indica è possibile in dieci anni un risparmio di oltre 100 milioni di euro, fondi che così sarebbero disponibili per priorità di sanità pubblica.